Presentata al Lido di Venezia l'iniziativa Bando alla Crisi, come poter fare in Basilicata e in Italia tutti i film che vuoi. E i rappresentanti delle produzioni cinematografiche, il Centro Sperimentale di Cinematografia, la Creatività Lucana Cinematografica, sparsa nel mondo, è presente alla mostra del Cinema di Venezia e non si è lasciata perdere l'occasione di partecipare a questo esordio. Al completo la delegazione lucana della Film Commission, il direttore pari delle Porace, il presidente Franco Rina, il dirigente Feser Patrizia Minardi, e poi il presidente Annika Riccardo Tozzi, il presidente Sensi Contemporanei Alberto Versace, il presidente Rai Cinema Nicola Claudio, accompagnato dal direttore del Tg1 Mario Orfeo, il responsabile produzione film e sperimentali Rai Cinema Carlo Brancaleoni, e infine il direttore APT Basilicata Giampiero Perri e il responsabile settore cinema BNL Alberto Baldini, i quali hanno dato vita ad un serato confronto. Brancaleoni ha annunciato che si sta già lavorando ad una prossima produzione in Basilicata, dedicata all'Aglianico, e che questo progetto lo entusiasma davvero molto. Il direttore della Lucana Film Commission, Pari delle Porace, ha commentato la fine dei lavori. Siamo soddisfatti dell'operazione di presentazione delle nostre attività a Venezia, che non contemplano solo la produzione, ma anche la fruizione in sala e la tutela degli archivi, a partire dalla Cineteca Lucana, che è un patrimonio della settima arte.